Smith dall'altra parte contro Owens che lo ferma ma la palla ancora della Tezenis che va di nuovo col Neo. Arrivato Justin Simon poi dalla lunga distanza, tre punti. Ancora da Markel Brown c'è Henderson ad occuparsi di lui. Wall Detenza innesta la marcia, tutto annullato da Dennis Davis. Alimenta la transizione la Tezenis con Cappelletti, sotto mano, fallo subito. Primoferro a dirgli di no. Siamo dall'altra parte già con Cappelletti che sfida Colby Ross e assorbe il contatto. Due punti per Alessandro Cappelletti. Pesa davvero una tonnellata, due minuti ovviamente Tezenis che ora ha bisogno di fare punti anche velocemente. Davis per Cappelletti dal mezzangolo. Quasi solo retina per Alessandro Cappelletti.